Dopo l'annuncio dell'appoggio di Chieti Scalo Noi di Camillo Carapelle alla coalizione di Bruno Di Iorio, i candidati alla carica di sindaco per l'elezione amministrativa di Chieti del 20 e 21 settembre scendono a 5. Fabrizio Di Stefano, Bruno Di Iorio, Diego Ferrara, Paolo De Cesare e Luca Micone si confronteranno per la prima volta nella tribuna politica organizzata dall'Associazione Noi del Gian Battista Vico, presieduta da Stefano Marchionno. Il dibattito, moderato dal direttore di Rete 8, Carmine Perantuono, in collaborazione con il giornalista del quotidiano Il Centro, Pietro Lambertini, si svolgerà nel pomeriggio di oggi alle ore 18, presso la sala del ristorante Bellavista in Corso Marrocino a Chieti e sarà trasmesso sul Rete 8 questa sera alle ore 21. Pietro Lambertini, giornalista del quotidiano Il Centro, che campagna elettorale si annuncia? È una campagna elettorale, almeno strano, una campagna elettorale di fine estate, che arriva dopo una pandemia che ha lasciato segni ovunque e il rinvio delle elezioni di maggio. Manca poco per la chiusura delle liste, gli accordi stanno andando avanti anche in queste ore, dovremmo avere 5 candidati sindaci, salvo sorprese dell'ultima ora, e in tutto dovrebbero essere circa 20 le liste che si fronteggeranno alle elezioni con una mole di 630 candidati a occhio e croce che correranno per il Consiglio Comunale. I 5 candidati sindaci saranno con noi per discutere della città, dei loro progetti e delle loro idee per portare avanti questa città dopo dieci anni di amministrazione di primio. Gli anni sono cambiati rispetto al passato e adesso i cittadini chiedono certezze, chiedono fatti, non vogliono promesse. Quindi auguriamoci una campagna elettorale in cui si parli di fatti e senza tanti voli pindarici in cui ci sia attenzione alle esigenze della città e dei suoi cittadini. Ma potrebbero esserci delle sorprese dell'ultimo minuto, dell'ultima ora? Magari qualche sorpresa ci potrebbe essere nella composizione delle liste con qualche candidato nuovo oppure qualche candidato eccellente che resterà fuori. Però sui candidati sindaci io penso che resteranno 5.